Padre Graziano ha lasciato il carcere a retino di San Benedetto per essere trasferito nel convento romano dell'ordine premostratenza agli arresti domiciliari come stabilito dalla sentenza del 3 dicembre 2015 dal Tribunale del Riesame di Firenze. Padre Graziano quindi sarà trasferito a Roma con il braccialetto elettronico a cui i giudici fiorentini hanno subordinato gli arresti domiciliari e lì sconterà la misura cautelare alternativa. Padre Graziano ha trascorso nove mesi nella casa circondariale a retina con la pesante accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, soppressione o occultamento di cadavere.